Campi Salentina chiama, FSE risponde. È stato accolto tempestivamente l'invito rivolto al commissario straordinario di Ferrovie Sud-Est, Andrea Viero, che in mattinata ha dialogato con gli esponenti istituzionali del comune salentino, che da più di dieci giorni ha le prese con un servizio trasporti insufficiente rispetto all'utenza. Richieste puntuali e tecniche, quelle avanzate anche alla presenza del dirigente Cosimo Re. Chiediamo di potenziare il bus delle 6.50, che da Guagnano arriva già pieno, incalza il presidente del Consiglio Comunale Celeste Roma, con delega i trasporti, e di anticipare la partenza del bus che da Ceglia arriva sempre fuori orario di un quarto d'ora, possibilmente scegliendo un mezzo più capiente, idem per quello che parte da San Pancrazio. A ritorno chiediamo invece un potenziamento del bus delle 14.15, soprattutto perché a partire da metà ottobre l'utenza universitaria si riverserà su quella tratta. Chiediamo garanzie che non siano semplice fumo negli occhi in tema orari e sicurezza. Vi porgo le scuse a nome di tutta l'azienda, esordisce il commissario. Sono subentrato in un percorso già in salita, ma punto ad assicurare entro dicembre un servizio quantomeno dignitoso. Non posso invece garantire una soluzione immediata alle vostre richieste, ma entro 15 giorni, con l'arrivo dei bus da Vienna, che potrebbero essere 15, di cui 10 destinati al Salento, so di poter garantire un miglioramento del servizio. L'attenzione e il controllo sociale, a volte anche impietoso, verso FSE, è per noi occasione di stimolo. Conoscere tutte le problematiche di ogni territorio non è facile, alla cittadinanza e alle sue segnalazioni diciamo solo grazie. In cambio però il commissario lancia un contrappello all'utenza, perché a volte anche un servizio necessita di garanzie e in questo caso di rispetto. Noi ovviamente in questo momento siamo molto bersagliati per l'inadeguatezza del nostro servizio, però va detto che molto spesso abbiamo blocchi dei treni, blocchi degli autobus, perché sono pesantemente vandalizzati, specie di notte. Noi cerchiamo di prestare la massima attenzione e vigilanza, però in alcuni casi devo dire che abbiamo degli eventi che hanno un impatto fortissimo. Gli ne cito due. Dopo la notte della Taranta i due treni che abbiamo messo in servizio sono rientrati poi alle rimesse di Bari completamente graffittati e abbiamo dovuto tenere i fermi quasi due giorni per pulirli. L'altra notte c'è stato un gruppo di ragazzi che sono entrati in nostro treno, hanno preso gli estintori e hanno imbrattato tutti i sedili. Treno bloccato per un altro giorno. Adesso stiamo installando le telecamere e i sistemi di sicurezza, quindi spero che un po' alla volta riusciremo anche a reagire. A farli eco il dirigente Cosimo Re. Ho fatto personalmente un giro persino nei bar vicino agli istituti scolastici. Ho trovato ragazzi a Zonzo che mi hanno raccontato di orari ridotti e di un processo di formazione delle classi ancora in itinere. Questo a noi non è stato comunicato e a partire da metà ottobre la stabilizzazione dell'organizzazione scolastica ci aiuterà certamente ad adeguare il servizio ai pendolari con le scelte più convenienti. Non bisogna puntare i fari solo sulla sicurezza a bordo di un bus. L'Unione dei Comuni del Nord Salento, rappresentata al tavolo di oggi dal suo consigliere Giovanni De Luca, fa sapere di essersi attivata da giovedì in commissione deliberando la nascita dell'Agenzia dell'Unione della Mobilità per l'Ambiente e il Territorio. Una cabina di regia di tecnici che elaboreranno un piano urbano di mobilità sostenibile. Obiettivo comune dunque procedere individuando nella collaborazione il principale punto di forza.